La democrazia cristiana nasce qui in Sicilia e diventa un partito cattolico europeo. Prima come partito popolare, costurzo. Poi nasce anche Forza Italia qui? Sì. Cioè possiamo dire che il destino d'Italia si fa in Sicilia? Sì, ma difatti anche lo sbarco degli americani avviene in Sicilia. Cioè l'Italia viene liberata a partire dalla Sicilia, perché? Perché gli americani non sono sbarcati a Genova? E magari poi gli veniva più facile scendere, no? Perché Churchill aveva capito che la Sicilia è la porta che apre il Mediterraneo e l'Europa. Cioè o si passa da qui o non si va da nessuna parte. Perché qui c'era la chiave per poter cambiare il volto dell'Italia futura. Perché se le cose qui fossero andate in modo diverso, in Italia non sarebbe accaduto tutto quello che è accaduto. Quello che è accaduto è potuto accadere perché sbarcando in Sicilia lo Stato e il potere, diciamo, degli USA ha appattuito con la mafia un assetto di controllo sociale che garantiva il futuro dell'Italia per i successivi cento anni. E continua ad essere così perché la nostra democrazia è una democrazia sotto scacco. E oggi lo vediamo con questo maledetto spread. Cioè siamo in mano al nazismo finanziario di altri poteri che non sappiamo esattamente da dove partano e dove vanno. Cioè non è un caso che l'Italia sia sotto tiro e non è un caso che Monti dica ma noi dobbiamo lavorare sulla situazione economica reale dell'Italia perché la situazione economica reale dell'Italia non è la situazione, diciamo, reale, quella che viene rappresentata dal mondo finanziario. Non è la situazione finanziaria che noi subiamo. E' una situazione diversa dal punto di vista obiettivo. Ecco, perché noi ci troviamo oggi in una situazione difficile anche sotto il profilo della gestione della democrazia che è quello che più conta. Perché non è detto, non è scontato che in Italia se si va a votare in autunno o a primavera vincerà la sinistra. Non è scontato. E poi quale sinistra? Quale sinistra? E così via. Oggi la democrazia è in crisi perché il vecchio sistema costituzionale che nacque dalle lotte armate di resistenza contro il fascismo non c'è più. Cioè questo sistema della carta dei diritti e dei doveri del cittadino non regge più. Non c'è più. Il diritto del lavoro sancito alla costituzione. Ma dov'è? Il diritto alla casa alla libertà di parola di espressione ma dove? Ma c'è il controllo totalitario delle case editrici delle testate giornalistiche io non ho accesso siete venuti voi perché insomma vi ringrazio forse ci intendiamo forse ma non è che la grande stampa è interessata alle cose che penso io anzi cioè io dico cazzate io ho presentato un esposto due anni fa a Ingrovia per la riapertura della vicenda di Giuliano perché mi risultava da moltissimi documenti che quel morto a Castelvegiana non era Giuliano ho fatto un esposto l'ho documentato e Ingroia dopo aver sentito perlomeno una ventina di testimoni e avere raccolto ulteriore documentazione ha deciso di fare scoperchiare quella tomba e ha ordinato il DNA l'esame del DNA io ho avuto tutta la stampa contro e Ingroia è stato pure diciamo avversato dai giornali perché è ritenuto iperbolico nelle sue scelte cioè come se avesse sbagliato in qualcosa è come se Giuliano non fosse stato un criminale con 411 delitti aperti in relativi fascicoli al tribunale di Palermo delitti di aggressione armata contro i poteri dello Stato uccisione di cento e rotti carabinieri di una quarantina di sindacalisti di stragi da portello a Bello Lampo e via di seguito c'è come se non avesse avuto l'obbligo di verificare se per caso una persona come Giuliano dopo aver commesso quei delitti era giusto che lo Stato lo facesse scappare perché questo è successo tant'è che del DNA da due anni a questa parte non se ne parla più non si sa più che fine ha fatto hanno fatto i prelevi hanno fatto tutto non si sa più se quello è il DNA diciamo che corrisponde al familiare ancora vivo o no non si sa quindi perché accade questo accade perché la nostra verità è sempre infangata e perché c'è un sistema informativo in Italia perverso che non comunica la verità comunica soltanto ciò che conviene al potere il potere è criminale quasi sempre quantomeno perché è complice di tutto quello che accade e viene sottaciuto quindi la vera lotta antimafia si fa con la consapevolezza e con le carte alla mano non facendo cortei sì certo anche quelli non attraverso operazioni di tipo musicale folcloristico teatrale adesso ci sono registi che fanno teatro pure su queste vicende ma si fa o cinema oppure fiction televisive ma la lotta antimafia si fa con grande sacrificio e spesso anche in solitudine per scoprire frammenti di verità che è quello che vogliamo fare come archivio bene proprio un'ultimissima cosa proprio al volo io ho sempre pensato questo però è un diciamo più una mia curiosità volevo sapere se può essere vera che diciamo la sconfitta e la vittoria diciamo la vittoria del fascismo dopo la seconda guerra mondiale cioè la restaurazione del fascismo sotto forma di diciamo di democrazia è anche quello che diceva lei prima sia sia nata nel momento in cui i partigiani consegnano le armi ai carabinieri alle forze dell'ordine sì questo fu un fatto positivo perché proseguire la lotta armata contro il fascismo in una situazione in cui si stava lavorando alla carta costituzionale sarebbe stato un po' anacronistico cioè o tu fai la guerra all'ultimo sangue contro i fascisti però deve essere autorizzata non può essere spontanea cioè affidata a singoli gruppi cosa che pure è successa e può succedere cioè è successa però non è un fatto diciamo che aiuta a capire meglio quello che è grave invece è che dopo l'amnestia concessa dal ministro di grazia e giustizia Palmiro Togliatti ai fascisti nel 1946 furono messi in libertà tutti quei fascisti che erano stati messi in galera giustamente i quali non si posono il problema di questo nuovo stato con cui si dovevano fare i conti per una convivenza civile pacifica per lo sviluppo dell'Italia negli anni successivi ma si posero il problema di come io sto leggendo adesso di come gettare l'Italia nel caos e uno di questi era appunto questo Graziani Graziani che aveva come scopo quello di ripristinare i gruppi della RSI per gettare l'Italia nel caos e rifondare il fascismo senza Mussolini su nuove basi sia filosofiche sia teoriche questo questo è Rodolfo Graziani nel 47 subentrò invece questo signore qua che a Napoli era di casa originario delle cara fritte quindi sempre siciliano era aveva però interessi particolari quale potrebbe essere una nuova tecnologia del potere una tecnologia che si muove su scala planetaria se noi avremo un mondo in mano a quattro pazzi responsabili come può essere Putin nella Russia in Italia mettiamo che ci sia un personaggio X o altri personaggi che noi abbiamo conosciuto o più o meno tipo questo signore Graziani e altrove nascono altri personaggi che hanno una visione spregiudicata nell'uso del potere questi poteri nuovi nella realizzazione realtà in cui andiamo a operare per il futuro non hanno più bisogno di consegnare ad altri l'esercizio di un controllo che essi stessi possono consegnare perché cosa nostra è stata soprattutto il controllo sociale questa funzione ha assolto il controllo sociale nel momento in cui il controllo sociale viene assolto da altri cioè da soggetti del potere attraverso le nuove tecnologie attraverso modalità del tutto nuove quelle che ci sono quelle che conosciamo e quelle che potrebbero essere inventate in futuro non c'è motivo per cui debba esistere diciamo l'organizzazione trinitaria di cosa nostra cosa nostra potrebbe pure scomparire perché come diceva giustamente Falcone la mafia è un fenomeno organico e ha quindi una sua origine un suo sviluppo e quindi avrà anche una sua fine non è detto che sarà eterno e non è detto che sarebbe erroneo pensare che questo fenomeno sia un fenomeno che non destinato a cessare cessare nel momento in cui cambiata la situazione su scala planetaria il mondo sarà in mano a quattro criminali che non hanno bisogno di delegare anzi è nel loro codice genetico non delegare ad altri il potere che essi stessi possono esercitare nel 46 47 la situazione era diversa perché una volta che le truppe di occupazione avessero lasciato la penisola dell'Italia queste truppe se ne sarebbero andate fuori non ci sarebbero state più l'Italia sarebbe ritornata al vecchio regime quindi avevano bisogno di rifondare questi nuovi poteri militari che erano arrivati di rifondare uno stato e una situazione per cui ci fosse qualcuno che realmente garantisse l'ordine non poteva essere lo stato perché lo stato era debbo lo stato non c'era nel 43 in Italia non c'era l'RSI anche nel 45 lo stato non c'era c'erano nuclei di partiti che cominciavano a sorgere anche nel 46 47 però siamo agli inizi di un processo ma la mafia era stata investita già nel 43 dei pieni poteri tant'è che pare che la trattativa tra stato e mafia e cioè l'Achi Luciano che era in galera e doveva scontare 60 anni di galera si sviluppa proprio in quegli anni per favorire non lo sbarco ma il controllo successivo di Cosa Nostra degli aspetti territoriali e sociali della realtà siciliana e nazionale e questo è tanto vero che Poletti ebbe come suo interprete ufficiale il capo di Cosa Nostra cioè Vito Genovese cioè Vito Genovese era l'interprete ufficiale del capo del governo militare alleato cioè è come se Monti avesse come suo diciamo referente principale che so Bernardo Provenzano o Totò Rina oppure Matteo Messina Danai dice chi è il suo interprete Matteo Messina Danai questo successe lo portava dietro nelle riunioni ufficiali non si vergognavano questo purtroppo è accaduto quindi se noi non facciamo questa panoramica non capiremo mai cos'è la mafia per spiegarsi la trattativa bisogna partire da lontano perché e torno al discorso iniziale se noi partiamo dal 92 non abbiamo capito niente rischiamo di avere quantomeno una visione molto trammentata delle cose di rischiamo di Grazie a tutti.